Marino Giorgetti, l'olivo e il suo olio tra tradizione e innovazione. Che cosa è lecito sapere in tal senso dopo un interessante incontro promosso dall'Accademia Italiana della Cucina Sezione Pescara a Ternum? Con questo convegno abbiamo abbracciato varie tematiche partendo dalla storia alla trasformazione delle olive e nel mio intervento in particolare ho parlato delle caratteristiche sensoriali che le diverse varietà di olivo possono esprimere e poi l'abbinamento che noi possiamo fare in cucina con questi oli che appunto essendo diversi come caratteristiche organolettiche possono poi meglio esaltare il cibo che noi stiamo preparando. Quindi ecco un connubio perfetto, noi si parla in genere di abbinamento cibo-vino ma è anche così da incominciare a prendere in considerazione l'abbinamento cibo-olio cioè l'esaltazione dell'olio e del cibo che noi stiamo preparando con un connubio di sensazioni sensoriali che hanno sia il cibo che l'olio per poter meglio appunto effettuare la nostra preparazione. Non avrebbe mai senso appunto mettere una goccia di olio intenso su una sogliola lessa proprio perché andrebbe a coprire il sentore del nostro pesce così come non avrebbe senso mettere un olio diciamo di caratteristiche leggere su una bellissima zuppa di fagioli con le cotiche cioè andremo solo a ungere ma con un olio invece un pochino più intenso con una struttura maggiore daremo sicuramente una migliore realizzazione della nostra preparazione culinaria. Insomma usare l'olio è davvero un'arte? E diventa un'arte quando noi incominciamo meglio ad apprezzare attraverso i nostri sensi le caratteristiche organolettiche e quindi poi poterle abbinare al piatto che andiamo a preparare.